Confrontarsi sulle politiche giovanili nelle regioni di montagna con questo obiettivo si è svolto sabato 16 e domenica 17 giugno 2012 il consueto convegno organizzato dall'assessorato della sanità salute politiche sociali per approfondire le tematiche che ruotano intorno al complesso universo delle giovani generazioni ad ospitare l'incontro è stato il forte di masciabi ad arnà ristrutturato recentemente e oggi adibito a ostello della gioventù l'iniziativa si è proposta di favorire lo scambio fra i soggetti di regioni diverse ma accomunati dalle stesse situazioni di lavoro e da difficoltà e condizioni analoghe l'oggetto della discussione è stato soprattutto il ruolo degli enti pubblici e la necessità di agire insieme ai giovani nelle realtà di montagna partendo dalle esperienze di diverse realtà alpine noi periodicamente così organizziamo un seminario sulle politiche giovanili proprio perché credo che sia il settore più complicato e difficile delle politiche sociali confrontarci con le altre realtà di montagna come la nostra credo che sia fondamentale quindi il motivo per cui abbiamo lanciato questo convegno sui giovani e le regioni di montagna perché è fondamentale che la montagna viva e perché la montagna possa vivere è altrettanto fondamentale che i giovani possano vivere nella montagna nelle nostre vallate credo che da questi due giorni emerga almeno io mi auspico che emerga che i giovani che vivono in montagna hanno effettivamente delle difficoltà perché sono legate alla geografia però c'è così la tu il valore aggiunto che comunque legame al territorio legame la tradizione la propria cultura io credo che in questo mondo dove sempre più difficile avere dei punti di riferimento di qualsiasi tipo di natura politica di natura a volte anche religiosa culturale avere delle radici culturali ben piantate e come punto riferimento sia già una buona partenza per cominciare il proprio cammino nella vita e in questi mesi l'amministrazione regionale sta lavorando sul testo di una nuova legge per i giovani sono tre le aree tematiche su cui si sta sviluppando il disegno di legge in primo luogo la formazione il lavoro e la casa in secondo luogo i valori in terzo luogo le prospettive per il futuro questa nuova legge che va a rivedere una vecchia legge degli anni 80 credo che gli assi portanti siano legati soprattutto alla compartecipazione dei giovani alle loro politiche quindi ormai si è definitivamente tramontato il concetto per cui anche nelle politiche giovanili bisognava imporrere delle linee delle idee ma ormai deve emergere sempre di più dai giovani so che ciò che bisogna fare perché molto spesso si sono visti fallire progetti centri giovani centri sociali che hanno dimostrato dei grandi limiti quindi la presenza di una consulta regionale la presenza di un conseil regional de jean che è stato un po una proposta di un gruppo di giovani quindi noi cerchiamo sulla scorta delle realtà francesi di creare anche una possibilità di questo tipo di così per permettere i giovani di poter rappresentare quelle che sono le loro istanze quelle che sono le problematiche